Professor Luigi Dei, stamattina a Polo Scientifico le letture di Natale, che cosa sono? Le letture di Natale sono un ciclo di conferenze che auguriamo possano diventare tradizione che iniziamo oggi e che dobbiamo fare per tutti i Natali che verranno nel futuro. È una tradizione nata in Inghilterra nel 1825, sono letture di temi scientifici legati alla didattica, alla ricerca per un ampio pubblico. Vogliamo riuscire a fare quello che sono riusciti a fare i britannici più di un secolo fa, cioè creare una tradizione per il senso di appartenenza alla comunità universitaria.